Siamo con uno dei commercianti più simpatici d'Italia, Lucianino Imbriani, due negozi in via San Giovanni De Collato, centro di Arezzo e oggi volevo parlare di saldi perché tutti, molti dicono che i saldi, specialmente in abbigliamento, sono andati male, vero? Cioè, cosa devo dire io dei saldi? I saldi sono andati male, come vanno male i negozi di abbigliamento, vanno male tutti, anche i saldi vanno anche male. Voglio fare il Montiano io, Berlusconiano, Montiano, Bersaniano, a novembre c'erano i saldi, cioè, te devi capire, se ti passeggiavi per il corso, o per i nuovi locali, o perché saldo, cioè, promozione per i morti, promozione per i vivi, promozione per chi resta, era tutta una promozione, iniziavano da 30, 45, poi a dicembre uguale, oggi mi dici che devo saldare? E saldi più niente, oggi togli la D, metti la T e fai saldi per restare in piedi, e c'è niente da qui, bravissimo, saldi mortali, bravo, bisogna dire in questo modo, questo non c'è niente da fare, no, non c'è niente da fare, c'è qualcosa da fare, non c'è niente da fare, bisogna arrivare a fine mese, ma il mese è lungo, oggi sono riuscito a allungare anche il mese, oggi voglio entrare in politica, oggi, nei moderati, bravo, bisogna scacciargli il capo, bisogna essere moderati, io mi mostrerei, fatti vedere, io mostro di così, ma da uno bravo, da uno bravo, dottore, c'ho fratelli, c'è una famiglia, ora, stamani non ho preso la pillola, però, se prendi la pillola la cambia, sento meglio, dove l'ora, prego, Mauro Peloni, via Crispi, anche lui una delle eccellenze retine, è vero che questi saldi vanno male o no? Insomma è un po' un'esagerazione No, ti devo dire la verità, va bene, non vanno male perché ci sei te che mi fai pubblicità, no, scherzo, no, non sono andati male fino a ieri, anzi fino a sabato, poi ieri effettivamente abbiamo avuto un calo Forse la giornata, forse non lo so, insomma, ecco, però ho visto che il nostro prodotto in definitiva funziona, funzionano le tre o quattro aziende che abbiamo che sono, insomma, aziende importanti nel nostro settore e soprattutto se comprate a un prezzo chiaramente conveniente perché aziende, posso fare pubblicità? Come? Aziende come Hogan, come Tots, come, insomma, anche altre, Scherzer, Regan, diventano abbordabili a persone che chiaramente dicono magari compro una cosa in meno, però, insomma, compro quella... Come faccio io, insomma Come, Leo, come si sta facendo, purtroppo devo dire la verità Senti, in che ordine di percentuale sei su questi marchi, su questi bei marchi? Mediamente sul 30%, magari... Quindi un ottimo sconto Sì, sì E fino a quando durano questi saldi? Questi saldi durano praticamente tutto febbraio, in definitiva, fino al 23-25 di febbraio, quando faremo le vetrine nuove per la primavera estate Arriverà qualcosa per San Valentino, chiaramente faremo le quattro vetrinette fuori per San Valentino Quindi anche le gettistiche, anche gli accessori, no? Sì, ma si regalano anche scar, anche calzature Com'è? Cioè, la famosa Interactive della Hogan viene regalata a Natale, viene regalata anche in questi momenti, insomma, queste ricorrenze Anzi, facciamo una cosa, visto che io sono un singolo, se nel frattempo mi fidanzassi, ecco, mi potete regalare un paio di scarti 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 Serebbe la prima donna che mi fa le scarti Anna Maria Polci, nel Corso Italia L'eccellenza delle eccellenze degli abbigliamenti, la moda, le tendenze, insomma, uno dei negozi storici di Arezzo Quello sì Giusto? Sì Però con questo sorriso vuol dire che tutto sommato le liquidazioni sono andate bene, stanno andando bene Abbiamo visto, insomma, un raggio di luce, un raggio di sole, perlomeno, nonostante la stagione Anche il dicembre ha portato qualche soddisfazione, ora con i saldi si rivedono i nostri clienti Quindi, insomma, c'è fiducia, c'è speranza, i tempi sono durissimi La stagione ci ha fatto soffrire, però vediamo, con i saldi Ecco, è il modo, il saldo in un negozio come il tuo, è il modo per avvicinare alla qualità anche persone che non se lo sarebbero potuto magari permettere a prezzi pieni Indubbiamente poi quest'anno abbiamo iniziato subito con una percentuale un po' più alta, subito col 40% quindi per invogliare maggiormente Quindi noi ce la mettiamo tutta Fino a fine febbraio? Fino al 5 di marzo in realtà Fino al 5 di marzo, ok Allora, io ricordo, al di là dei saldi, siccome mi hanno detto che i cappelli non si trovano più da nessuna parte Che la signora Anna Maria Polci ha addirittura Borsalino, oltre ad altre linee Borsalino comunque è il top nostro, però possiamo avere anche altri cappelli Siccome anche per uomo Borsalino non si trova neanche più a Firenze Perché in piazza del Porcellino hanno chiuso il negozio È vero, è vero, sì 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 sì, lo sapevo E quindi anche agli amici che da Firenze volessero trovare i Borsalino veri, originali, quelli indistruttibili Nel Corso Italia da Anna Maria Polci Oppure cliccando nella nostra web tv c'è il suo link col suo sito E c'è anche l'acquisto online Sì esatto, abbiamo iniziato anche la shop online, vediamo un po' Ora sai, sull'abbigliamento c'è bisogno di toccare Sì, indubbiamente, questo è quello che a me fra l'altro fa anche piacere Perché vuol dire che i negozi comunque non moriranno mai Però è un'opportunità in più, è anche un modo per aggiornarsi Chiuderei in una maniera consona i miei programmi Se siamo per toccare, spengi gli cose, le do una tastatina e posso riparla domani Buon anno Buon anno a tutti